A voi tutti ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Veitis, ben ritrovati come sempre su Meteo Giuliacci. Inizio di settimana invernale, soprattutto al centro e al nord, avremo, guardate, neve sino a bassa quota. Dove? Lo vediamo subito, avremo molte nuvole sul Triveneto, Emilia Romagna, quindi Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Qui avremo molte nuvole, piogge sparse ma anche nevicate, sui rilevi sino a bassa quota, ma avremo nevicate sin verso la pianura anche sull'Emilia Centro Occidentale, soprattutto in una seconda fase. Andrà meglio al nord ovest, un po' più riparato dai fenomeni, con cielo poco irregolarmente nuvoloso. Qualche scroscio di pioggia sulle due isole maggiori al centro tenderà a peggiorare nella seconda parte della giornata. Con piogge sul versante tirrenico, poi tenderanno a sfilare verso il sud Italia. Avremo piogge in serata, tarda serata, sulle estreme regioni meridionali, nevicate comunque in Appennino, a oltre, inizialmente, oltre i 1300-1400 metri, poi la quota neve tenderà a calare al di sotto dei 1000 metri. Quindi, ombrelli al seguito, avremo una giornata invernale, come detto, con delle nevicate in pianura, soprattutto sull'Emilia Centro Occidentale. Io ho concluso, cari amici, buon inizio di settimana. Arrivederci.